buongiorno oggi vi presento un modo semplice per preparare un sugo più leggero però gustoso un filo d'olio extravergine di oliva un vasetto di pomodoro che preparo io e che ho conservato in congelatore e metto a cuocere quindi chiaramente sarà una salsa di pomodoro di qualità aggiungo il sale il basilico un pizzico di peperoncino una fogliolina di basilico un pezzo di cipolla mesco e faccio cuocere a fuoco lentissimo una volta che il suo avrà iniziato a bollire ci aggiungo alcuni cubetti di pancetta così mescolo e faccio cuocere per pochissimi minuti perché il sugo in realtà è già pronto è una salsa che ho preparato a seguito di una lunga cottura utilizzando i pomodori del nostro orto che cosa c'è di diverso da un normale da una normale salsa che ho evitato la frittura e quindi sarà un sugo molto più leggero spero che la mia ricettina vi sia piaciuta vi saluto e vi auguro una buona giornata